Martedì 13 ottobre alla Cittadella dei Giovani di Aosta si è svolta la Journée des Métiers du Tourisme, momento d'incontro fra gli albergatori e i ristoratori aderenti all'Associazione Adava e coloro che cercano lavoro nel settore turistico per la prossima stagione invernale. I candidati erano stati precedentemente selezionati dai centri per l'impiego sulla base delle richieste pervenute. Noi abbiamo fatto questo sforzo importante insieme alla Adava e ai centri per l'impiego per mettere insieme le esigenze della domanda e dell'offerta del lavoro e quindi cercare di migliorare in un momento difficile di criticità del nostro mercato del lavoro la conoscenza delle opportunità soprattutto per i valdostani che alle volte probabilmente non tengono abbastanza in conto l'importanza di questa attività lavorativa e siccome abbiamo molti giovani e meno giovani che hanno esperienze e si sono formati penso che ci siano tutte le condizioni per dare una prima risposta a quelle che sono le problematiche del lavoro. Gli albergatori e i ristoratori cercavano complessivamente 80 figure professionali e hanno le idee chiare su come scegliere un candidato rispetto a un altro. Noi stiamo cercando una receptionist, i criteri sono naturalmente conoscenze informatiche sicuramente di lingue, un'esperienza ma soprattutto il piacere di fare il lavoro, di fare questo tipo di lavoro qua. Per il portiere di notte che rimane un po' più a contatto col pubblico richiediamo comunque una minima conoscenza della lingua inglese e una maniera un po' diciamo educata di rapportarsi con il cliente. L'esperienza sul campo è ovviamente una persona che dimostra volontà e voglia di fare. In realtà cerchiamo persone che abbiano veramente l'attitudine all'accogliere le persone, ad essere a loro disposizione. Poi è ovvio che la formazione che può dare la scuola alberghiera è importantissima. L'esperienza forse sul campo magari meno perché poi ognuno di noi credo tenti di personalizzare il servizio a modo suo.